Simone Bertelli è riuscito a conquistare l'oro nel salto con l'asta agli europei under 20 di Gerusalemme esattamente la stessa misura che ha fatto il secondo classificato però lo svizzero Imsand o Imsand lo svizzero è riuscito a farlo al secondo tentativo il 540 mentre il nostro Simone è riuscito a farlo al primo tentativo riuscendo quindi a portarsi a casa l'oro questo oro rappresenta in pieno il nuovo valore che ha Simone Bertelli dalle Outdoor del 2022 perché infatti l'anno scorso al primo anno da Juniors era riuscito a passare da 5 a 5,35 come primato personale poi durante la stagione indoor del 2023 è riuscito ad ottenere un ulteriore miglioramento arrivando fino a 5,51 prendendosi anche il record nazionale under 20 poi durante la stagione all'aperto del 2023 non si è più migliorato ma comunque ha fatto la cosa importantissima di dimostrare di essere un atleta solido perché ha fatto più volte 5,40 arrivando fino a 5,45 tra l'altro misura che lo colloca al sesto posto mondiale stagionale tra gli under 20 dove vabbè al primo posto c'è Vulkov bielorusso da 5,71 però lui è di un altro pianeta e quindi il nostro Simone Bertelli è anche un atleta di valore internazionale mondiale non solo europeo come se fosse poco europeo perciò in questi europei under 20 si è rifatto completamente da quanto era successo ai campionati mondiali dell'anno scorso perché il mondiale under 20 non era riuscito neanche a qualificarsi per la finale saltando 4,90 misura che aveva già fatto mille volte in quell'anno e poi questo oro europeo under 20 rappresenta il suo primo successo internazionale di una certa importanza si intende perché comunque durante l'Indoor 2023 era riuscito comunque a vincere l'incontro internazionale indoor under 20 tra Italia, Francia e Spagna che però capite che non ha lo stesso valore di un campionato europeo nota a margine alla stessa gara di Simone è arrivato comunque al quinto posto un altro italiano ovvero Federico Bonanni che ha saltato 5,20 pareggiando anche il primato personale quindi non gli si poteva chiedere assolutamente di meglio e quindi la nostra specialità dell'asta a livello giovanile sta veramente molto bene non solo a livello maschile, considerate che a livello femminile c'è Great Nachi che ha fatto comunque una medaglia di bronzo sempre nell'asta saltando 4,15 quindi asta under 20 veramente super spettacolare e se non vuoi perderti altri video di pillole di atletica ti invito a seguire guarda caso chi pillole di atletica grazie mille se lo farai, grazie anche se lo stai già facendo e ci vediamo alla prossima, bye bye